Sono circa 36.000 i passeggeri movimentati nel mese di agosto dalla linea Cilento Blu, che ha garantito i collegamenti marittimi con navi veloci da Napoli e Salerno, verso le località del Cilento. L'iniziativa, spiega Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Campania, ha avuto un buon riscontro nei passeggeri. Siamo soddisfatti e quindi stiamo già progettando il programma per riproporla per la prossima estate, coinvolgendo anche altre località di grande interesse turistico della Campania, come le questie ramalfitane e sorrentina. Collegamenti via mare, per snellire il traffico dunque, in zone particolarmente affollate d'estate e che sono state utilizzate anche nel mese di luglio, durante il quale Cilento Blu ha registrato circa 10.000 passeggeri movimentati. Il porto più frequentato è stato quello di Agropoli, seguito da San Marco di Castellabate, molto richiesto come meta turistica anche il porto di Acciaroli.